Weeeh, non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, piano piano che passano i giorni e passano le settimane, la season non è che manca proprio tantissimo alla fine, aggiungono sempre nuove cose relative a degli argomenti che non vediamo l'ora di vedere in game nel video di oggi ovviamente parleremo della patch 10.10 o meglio dell'aggiornamento alla patch della settimana scorsa che non richiederà nessun downtime sarà disponibile oggi e non ci sarà bisogno appunto di aggiornare il gioco ma parleremo anche di alcuni file inseriti relativi al nuovo shop a votazione tutti lo stanno aspettando se ne parla tantissimo cerchiamo di fare un po più di chiarezza parleremo anche del nuovo consumabile se ne avrò tempo perché c'è una roba molto particolare che dovrebbe essere associata al nuovo campetto da calcio insomma dove c'è il rift beacon e ovviamente una bella valangata di leaks per tenervi sempre sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xiodarone grazie di cuore ragazzi per supportarmi dove ogni giorno nello shop mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima è c'è c'è da farvi la domandina raga ve la devo fare non posso non farvela raga non inondatemi ieri mi avete risposto in tantissimo vi metto i cuori leggo i commenti non vi posso rispondere perché siete centinaia ma la domanda di oggi va che è seria va che è seria ragazzi ed è anche semplicissima ma te da quale season giochi forza voglio vedere qua tutti gli og player forza 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 quale 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 season è stata la tua prima di fortnite se ci vuoi mettere anche il perché va bene lo stesso io come sapete ragazzi vabbè ho iniziato a giocare a settembre del 2017 le ho viste tutte tranne la 2 non ho vissuto purtroppo la season 2 perché su youtube andava un altro gioco ma quindi ciancio levante e vado alle ciance andiamo subito subito a parlare del tweet che ha pubblicato fortnite ovviamente nella sua pagina personale the verse version via version tempo in ten content update drops tomorrow august 20 alle 8 quindi indicativamente alle 9 di questa mattina fra poco arriverà l'update state attenti perché ci sarà ovviamente la patch notes ve la caricherò dopo questo video e ci dicono no downtime require quindi non ci sarà il downtime cosa ci si aspetta da questa patch ovviamente ci si aspetta la fenditura rottami che finalmente ha un nome in italiano il junk rift sappiamo già tutto sul junk rift vi ho fatto vedere il junk rift in game vi ho fatto vedere da cosa cosa tira fuori vi ho fatto ascoltare gli audio quindi ragazzi sappiamo tutto se non l'avete visto è il video di ieri mattina con tutte le cose non vedo l'ora di provarlo in game per vedere se ha senso che venga inserito oppure sia semplicemente una cacata in realtà c'è un'altra novità che volevo dirvi per tutti quelli perché ci sono stati alcuni che hanno avuto problemi nel ricevere la colorazione rossa del soldatino di plastica il pattugliatore di plastica mi sembra si chiami in game non preoccupatevi arriva direttamente sempre da epic games da fortnite un altro tweet che dice sappiamo che ci sono stati dei problemi per alcuni che non hanno potuto ricevere la skin rossa del soldatino non preoccupatevi dovremmo risolvere tutto con l'aggiornamento di oggi ovviamente vi verrà data in maniera totalmente gratuita e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo molto brevemente del rift beacon attivo al campetto da calcio molto molto rapidamente andiamo a vederci uno spaccato di ciò che sta succedendo in queste ore e lo abbiamo già visto sia per la nuova pinnacoli sia per i grandi magazzini c'è la piattaforma che assorba l'energia c'è il rift beacon che crea sopra di sopra di sé una fenditura altissima in cielo e ovviamente questa energia poi trasmuterà quello che c'è in game in qualcos'altro la cosa molto particolare come già vi avevo fatto vedere in nel video di ieri mattina è che non ci sarà nulla o meglio queste sono delle immagini presente in game non so se decideranno di inserire degli oggetti magari decideranno di mettere dentro cose nuove non fate caso alle scie di fuoco quelle non c'entrano assolutamente niente solo per farvi vedere come sarà la sezione dove c'è adesso il campo da calcio ma è molto particolare perché già lo abbiamo visto è totalmente vuoto rimane solamente qualcosa di metallo rimane il distributore che curiosamente qua non sappiamo in realtà come mai mostra in questa immagine presa nei file di gioco una minigun blu non penso che in realtà ci sia davvero una una diminuzione della rarità della minigun quindi semplicemente ragazzi ci troveremo un distributore e niente di più ma andiamo avanti con il prossimo argomento e andiamo a parlare finalmente di alcuni aggiornamenti inseriti proprio inseriti proprio nelle ultime ore relativi all'item shop voting staff che in italiano vorrebbe dire lo shop a votazione come sapete ragazzi qualche giorno fa vi avevo già fatto vedere delle immagini interessantissime cosa dovrebbe succedere non si sa quando però noi sceglieremo degli oggetti probabilmente un oggetto ogni tot tempo che verrà reinserito in maniera limitata nello shop il che vuol dire che non si potrà acquistare a profusione ce ne saranno magari 200 300 non lo so non lo sappiamo perché non lo sa nessuno l'immagine che avevo fatto vedere era quella della chitarra il piccone delle skin uscite il 2 novembre per la festa dei morti dante e lei non mi ricordo il nome sinceramente la cosa particolare che sono che è apparsa in questi file di gioco come vedete abbiamo vot quindi ci saranno probabilmente 34 oggetti che sceglierà epi games e noi procederemo alla votazione abbiamo anche due nuove immagini che adesso vi faccio vedere la prima si chiama hype particles pattern quindi sono delle particelle veramente a forma di pattern che vuol dire ripetute una di fianco all'altra che secondo me potrebbero essere tipo un effetto di animazione per l'oggetto che viene reintrodotto e nello shop abbiamo un'altra riga interessantissima community voting a types pixels quindi si sofferma e si riforza si rafforza la teoria che è un effetto che viene dato quando ci sono i risultati e poi abbiamo un new counter assets counter vorrebbe dire è il numero di oggetti che saranno disponibili per l'acquisto come vi dicevo appunto torneranno in maniera limitata nuova stringa 24 giorni 4 ore 8 minuti mi sembra un po strano che il timer sia coerente non penso che gli oggetti dureranno 24 giorni credo che si tratti invece di qualcosa a ore però non ne ho ovviamente la certezza e questa è l'immagine che andrà a caratterizzare molto probabilmente nello shop che noi conosciamo ci sarà probabilmente una casella dedicata ad uno degli oggetti che verrà riportato in game e appunto selezionato da noi l'immagine di cui vi parlavo prima eccola qua ragazzi il pattern e quindi come vedete lo stesso logo che vi ho fatto vedere pochi secondi fa ripetuto una marea di volte anche con colorazioni diverse il che secondo me sta proprio a significare l'animazione dell'oggetto che verrà riportato in game abbiamo anche delle stringhe direttamente dal codice come vedete quella evidenziata si chiama candidates e deve essere proprio dedicata agli oggetti che verranno dei quali sarà possibile votare quindi proprio i candidati e come ultima immagini una nuova stringa che ci dice la descrizione dell'oggetto dello shop dove dice gli oggetti che sono presenti nello shop non hanno assolutamente valore competitivo ma servono semplicemente ad abbellire il personaggio per ultima l'immagine di questo boh non si sa che cosa sia da 0 a 9 non non saprei davvero dirvi cosa potrebbe essere un grande mistero io ve lo faccio vedere giusto per tenervi aggiornati per come lo sono io io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live con la nuova pace ciao